Un mistero portato dal mare a Biceglie dove nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio è stato rinvenuto un teschio. La scoperta è avvenuta sul lungomare di via Prussiano sulla costa sud della città nella zona di Ripalta in direzione Molfetta. A notare il teschio incastrato fra gli scogli è stato un pescatore del posto mentre svolgeva la sua attività in mare al tramonto. L'uomo ha chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Trani e della tenenza di Biceglie oltre alla polizia locale. Secondo quanto appreso sin qui il teschio sarebbe umano e considerate le piccole dimensioni potrebbe appartenere ad un soggetto di giovane età deceduto diverso tempo fa. Ma su questo aspetto non ci sono ancora certezze. La procura di Trani vuole comunque vederci chiaro. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il cranio verrà esaminato nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Analisi che serviranno a stabilire se appartiene ad un uomo o una donna e a definire altri dettagli relativi alla possibilità. La vicenda riporta alla mente il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione a fine aprile 2023 a Margherita di Savoia su una scogliera in zona Porto Canale. Un uomo tra i 20 e i 40 anni morto circa due mesi prima e portato dal mare sulla costa salinara a trovare il corpo fu un gruppo di ragazzi. Prima ancora a inizio maggio 2022 il ritrovamento di un altro scheletro, questa volta a San Menaio, località turistica del Gargano, notato su una spiaggia da alcuni passanti.